carissimi amici catechisti della diocese di caltanissetta giunga a voi questa sera il mio il mio saluto giunga a voi il mio grazie per per l'invito che mi è giunto da parte di don di don salvatore l'odevole iniziativa che state portando avanti perché sappiamo bene quanto è effettivamente necessaria e urgente la formazione dei catechisti in un mondo che sempre più sembra diventare ateo in un mondo che sempre più sembra disinteressarsi alle cose del regno di dio avere catechisti formati che sanno a loro volta formare per costruire il regno di dio e per generare dare alla vita nuovi discepoli per il signore questa è una veramente un'iniziativa un'iniziativa lodevole quindi ancora grazie a voi tutti per l'impegno e lo sforzo che state facendo nel cercare di crescere nella fede e maturare sempre di più dal punto di vista pedagogico e umano il compito che don salvatore mi ha affidato è quello di riflettere con voi sul tema della identità e della vocazione del catechista tema che viene trattato dal direttorio per la catechesi dal nuovo direttore per la catechesi nei numeri 110 111 112 e 113 il numero 110 ci presenta subito il ruolo del catechista la figura del catechista come quella di un dono cioè inserisce la figura del catechismo del catechista scusatemi e nell'elenco dei dei carismi così come ci ricorda lumen gentium 7 ma così come ci ricorda benissimo san paolo nella lettera ai corinti ai capitoli 12 13 14 insomma tutto quell'elenco che ricordiamo benissimo del del dei carismi e ci dice proprio così nella struttura del corpo mistico di cristo vige una diversità di membri e di uffici uno è lo spirito il quale per l'utilità della chiesa distribuisce la varietà dei suoi doni con magnificenza proporzionata alla sua ricchezza e alla necessità dei ministeri lumen gentium 7 distribuisce la varietà dei suoi doni quindi il ministero del catechista è un carisma un dono che viene dallo spirito santo se andiamo un attimo a rivedere la definizione di carisma ci accorgiamo ci accorgiamo subito che esso il carisma è un dono di grazia proprio se andiamo a a guardare le tipologie della della parola carisma è un dono di grazia che produce gioia in chi lo riceve e produce gioia quando lo si dona il carisma è per il bene comune quindi dono di gioia per il bene di tutti per il bene comune e qual è la gioia che un carisma produce se non la gioia dell'incontro con il signore quindi il catechista è uomo della gioia strumento di gioia che porta che conduce all'incontro gioioso con il signore questo è il primo aspetto che il numero 110 ci fa ci fa comprendere ci fa capire quindi il il catechista non è altro che un uomo della gioia è un chiamato che riceve un chiamato da dio che riceve un dono particolare dello spirito santo questo subito dovrebbe proiettarci nella dimensione del senso di responsabilità che questo deve avere deve produrre nella nostra esistenza nella nostra quotidianità il catechista non è un di più un tanto per fare qualcosa all'interno della mia parrocchia non è un impegnarmi perché altrimenti non ho altro da fare ma il catechista è rispondere seriamente ad una vocazione ad una chiamata che lo spirito santo depone in noi sotto forma di dono attenzione a questo perché se comprendiamo la forza la grazia la bellezza la responsabilità di questo dono al quale il signore ci chiama ecco che ci sentiamo spinti per desiderio per risposta d'amore al signore a formarci a capire sempre meglio le cose del signore a sapere essere sempre più vicine agli altri cioè la vocazione quando la si comprende diventa non dico di facile attuazione ma di me divene capace di attuare ciò che il signore ci chiede senza questa comprensione profonda della realtà dei misteri di dio che invadono la nostra vita diventa difficile per noi poter applicare poter vivere serenamente la realtà della vocazione che altro non è che amare concretamente l'altro nella modalità e nel ruolo che il signore ci consegna essere catechisti o essere ministri straordinari se nello svolgimento del ruolo ha evidentemente delle connotazioni diverse ma la logica che accompagna e nutre questi ministeri all'interno della chiesa non può che essere l'amore l'amore siamo chiamati ad amare come vedremo dunque il catechista nella sua identità non è altro che un uomo capace di amare l'altro perché scopre in sé l'amore che dio ha per lui il privilegio che dio ha per lui e non può non donare questo questa gioia anche agli altri san paolo diceva guai a me se non annunciarsi il vangelo ecco il catechista deve sentire forte questa questa emozione dello spirito siamo chiamati ad annunciare il vangelo lì dove il signore ci ha collocato attraverso il dono il carisma numero 111 tutta la comunità cristiana è responsabile del ministero della catechesi capiamo bene e chiaramente che il catechista non è il salvatore della patria non è la panacea a tutti a tutti i mali non è la soluzione ultima ai processi di evangelizzazione della della chiesa e il catechista è uno strumento un pezzo del mosaico una parte del grande corpo di cristo ma la catechesi deve essere sempre sorretta alimentata e deve sempre lavorare in sinergia con quella che è la realtà liturgica della parrocchia con quella che è la realtà della carità della parrocchia con quella che è la realtà dei vari ministeri parrocchiali con quella che è la formazione del che il presbitero dona alla comunità durante l'eucaristia nei momenti di formazione comunitari eccetera eccetera il direttore generale qui è molto chiaro la catechesi porta maggiori frutti se essa è perfettamente innestata nella collaborazione nella vita nella vita spirituale della comunità è tutto un corpo che poi si muove tutto un corpo che poi dà vita all'interno dei vari ministeri quindi il ministero del catechista e la catechesi all'interno della parrocchia devono necessariamente vivere l'armonia della parrocchia non può esserci ecco non possiamo pensare alle parrocchie settoriali c'è il settore della liturgia il settore ognuno cammina per le proprie strade ognuno vive i propri percorsi certamente anche così le formazioni per i formatori sono certamente alle volte diverse seguono percorsi certamente formativi diversi ma il light motive che le deve unire è sempre la vita comunitaria dell'insieme e questa collaborazione questo scambio di relazione affettiva questo scambio di relazione di vita comunitaria deve alimentare poi quello che è il ministero del catechista e quindi tutta la catechesi il catechista numero 112 ci dice che è un cristiano che riceve la chiamata particolare di dio e la accoglie con fede questa chiamata di dio accolta con fede abilita il catechista al compito di iniziare alla vita cristiana ma attenti bene subito dopo sempre al numero 112 il direttore ci ricorda che noi siamo chiamati a portare a dio siamo voce prestata allo spirito santo corpo prestato allo spirito santo non succeda mai di voler legare a noi le persone i ragazzi gli adolescenti i piccoli le famiglie il catechista non è colui che si mette in mostra ma il cateista è colui che mostra dio non abbiamo nulla da dimostrare noi se non mostrare il volto misericordioso del signore noi non abbiamo da dimostrare le nostre competenze le nostre bravure quanto siamo belli quanto siamo bravi quanto siamo buoni noi abbiamo da mostrare un volto misericordioso che è quello del signore e ciò può avvenire solo nella misura in cui ci lasciamo guidare dallo spirito santo nella misura in cui diventiamo discepoli dello spirito lo spirito diventa come dicono i padri della chiesa il nostro migliore maestro il nostro unico maestro e visto che il tempo scorre abbiamo solo un quarto d'ora vorrei brevissimamente delinearvi alcune caratteristiche del del catechista le guardiamo insieme velocemente poi se vi fa piacere tramite don romeo don romeo posso farvi avere le i fogli insomma che ho preparato così potete 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 usarli mi fate sapere tramite don salvatore allora diciamo detto questo no che quindi la catechista il catechista è un chiamato che riceve un carisma un dono di gioia che lo deve vivere nello spirito santo quella responsabilità la formazione eccetera eccetera cerchiamo di capire quale può essere l'identikit cercherò di andare di andare veloce va bene il catechista è certamente un discepolo in ascolto costante del maestro questa posizione di continuo ascolto ovviamente non può che generare una spiccata spiritualità di comunione e una personalità fortemente carismatica comunione e carismi come quello che dicevamo prima do di queste che strutturano tutta una serie di caratteristiche tipiche del catechista e fanno di esso un autorevole testimone partendo da questa condizione necessaria fondante e fondamentale il catechista diventa tale e tale è solo se dimora in dio solo se dimora in dio comprendiamo benissimo dunque che il catechista è un testimone che abita perché abitato dallo spirito santo che abita le realtà del signore le cose di dio dunque il catechista è un testimone la testimonianza della vita è divenuta più che mai una condizione essenziale per l'efficacia profonda della predicazione giovanni paolo secondi nevangeli nunziandi al numero 76 il catechista deve dunque associare alla comunicazione del messaggio cristiano la testimonianza di vita si comunica infatti ciò che si è sperimentato e che si possiede non si può trasmettere quello che non sia non possiamo predicare bene e razzolare male dobbiamo dare risposta della speranza che in noi i nostri atteggiamenti il nostro stile di vita pur sempre nella fragilità della nostra condizione che rimane peccaminosa per carità non vogliamo però trovare alibi dobbiamo cercare di essere testimoni autentici ciò che diciamo deve corrispondere a ciò che viviamo il catechista è uomo che ascolta e conosce la scrittura la parola di dio la bibbia usando uno slogan potremmo dire che il catechista è uno che sa e che sa dire la bibbia la bibbia non si inventa ma si accoglie con semplicità in questo clima la si scopre la si comprende in questo clima è possibile incontrare in essa dio e il suo amore il catechista è dunque uno che sa e conosce sempre meglio la sacra scrittura e perciò accetta lo sforzo dello studio e dell'aggiornamento bissoli è una citazione questa le competenze bibliche del catechista in dossier catechista del 2000 e dunque uno che si sforza dello studio e dell'aggiornamento non possiamo fare catechesi se abbiamo una povertà della conoscenza della parola di dio è fondamentale questo una parola di dio che va studiata ma che va anche accolta nel cuore non mi serve a nulla tutta l'esegesi di questo mondo se quella parola non scende nella mia vita e converte innanzitutto il mio cuore se non la sperimento per primo io non posso comunicarla agli altri anche se avessi tutte le conoscenze di questo mondo sarei come ci dice il san paolo un cembalo che suona ma non produce nulla va bene il catechista è uomo della speranza virtù teologale infusa nei nostri cuori per mezzo del battesimo la speranza può essere letta e compresa sotto un dubbio aspetto ricordiamo che la speranza fa riferimento a gesù cristo morto e risorto vivo e operante quindi nella fede nella fede diviene ed è una certezza dell'intervento divino a nostro favore il secondo aspetto fa invece riferimento alla presenza salvifica e misericordiosa del signore risorto nella nostra quotidianità chi teme il signore dice il libro del siracide al capitolo 34 versetto 14 non ha paura di nulla e non teme perché il signore è la sua speranza e ancora nel salmo 71 leggiamo sei tu signore la mia speranza la mia fiducia fin dalla mia giovinezza ecco il catechista che vive la speranza la virtù teologale della speranza sa consegnarla questa speranza sa metterla nel mondo sa renderla presente nella quotidianità nella vita di tutti i giorni nella vita di chi ci vive accanto il catechista è certamente un uomo di preghiera pregare e stare con dio e dialogare con lui e invocare lo spirito santo perché ciò sia possibile e quindi conoscerlo e conoscersi sempre di più la preghiera diventa dunque scusatemi necessaria diventa necessaria se vogliamo che la nostra vita diventi sempre più somiglianza della vita del cristo due sono gli elementi che ci rendono sempre più immagine e somiglianza del cristo e sono l'eucaristia e la preghiera e andiamo a chiudere così rispettiamo benissimo i tempi bisogna dunque permettere a dio di trasformarci bisogna dunque immergersi dentro questo amore per trasformarci bisogna dunque diventare come questo amore sant'agostino lo diceva bene è il cardinale ratzinger quando ancora non era papa in un suo libro bellissimo la comunione della chiesa ricorda commentando il mangelo di giovanni ricorda proprio questo che il cristiano non è uno che ama ma il cristiano diventa amore in virtù del fatto che dio è amore e chi ama dimora in dio ecco allora un altro caratteristica principale del del catechista ci dice che è uno che sa amare perché diventa giorno dopo giorno amore dell'amore che si dona quindi poi il catechista è certamente anche un profeta un uomo della verità queste cose poi magari ripeto ve le mando nel tramite pdf se vi può interessare il catechista è un educatore perché non possiamo solamente educare alla fede senza educare alla vita concreta di tutti i giorni ai comportamenti alla lealtà alla giustizia alla carità al buonsenso il catechista è l'uomo che sa tirare fuori il meglio dai ragazzi il meglio dalle famiglie educare significa appunto tirar fuori la bellezza che ci abita non possiamo solamente essere uomini dello spirito se non siamo uomini veri incarnati concretamente nella storia che viviamo quotidianamente ecco allora che l'aspetto pedagogico la formazione pedagogica la conoscenza di ormai tantissimi elementi penso all'intelligenza emotiva penso alle life skills insomma tutte quelle competenze che servono oggi per vivere serenamente la nostra vita ecco il catechista non può più solamente essere un conoscitore della sacra scrittura e della bibbia e di tutte le cose che possono fare riferimento a dio ma deve diventare anche competente nella gestione delle risorse che l'uomo ha tipiche dell'uomo bene detto questo ricordiamo solamente appunto che insieme a quanto detto rimane necessaria per il catechista dunque una formazione continua organizzata sistematica che possa consentire a tutti coloro che sono chiamati a questo ministero di viverlo e realizzarlo secondo la volontà di dio il catechista è un chiamato secondo il cuore di dio possa il signore aiutarci sempre a vivere questa dimensione della del ministero con gioia con forza e ci doni sempre di più tutti quelli che sono i carismi necessari affinché la nostra missione possa essere veramente fruttuosa e perché la nostra vita possa essere veramente un segno una testimonianza in un tempo che sembra aver smarrito dio grazie a tutti voi un abbraccio e un caro saluto